Qui c'è stato un incrocio di collane Uuuuh Tra quale prendiamo in onda Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e buon 2021 Questo tra l'altro è il primo video dell'anno E sono contentissima di essere qui con questo mio setup molto lilla Perché oggi ho deciso di parlarvi dei miei segreti per quanto riguarda i capelli Perché chi si ricorda la vecchia Gloria Io, tipo neanche due anni fa, avevo i capelli corti fino a qua Un bel caschetto, erano anche i rossi romati che mi piacevano tantissimo Da quel momento mi sono cresciuti tantissimo E in soli due anni ho ottenuto la lunghezza che adesso arrivano praticamente fino sotto al seno Come vedete anche da dietro si vedono come sono proprio lunghi 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 E questa sensazione mi mancava perché io ho sempre avuto i capelli lunghi Però è cambiata la mia routine Quindi in questo video vi faccio vedere i miei consigli Vi racconto un po' la mia esperienza Prima di iniziare vi ricordo che se volete seguirmi per me è un vero piacere E benvenuti nella Fair Family Se volete anche attivare le campanelle fate bene perché in questo modo vi arrivano le notifiche Non molto spesso però cercherò di fare del mio meglio Altrimenti potete seguirmi su Instagram dove sono un po' più attiva Direi di iniziare con il primo consiglio Ovviamente non sono in ordine perché li ho buttati giù in qualche giorno Quindi quello che mi veniva in mente della mia routine lo scrivevo nella lista Ho iniziato a segnare le cose che faccio Perché non sono cose che facevo prima ma che faccio ultimamente Da quando ho iniziato ad andare da parrucchieri specializzati In prodotti naturali Qua ci soffermiamo dopo perché la prima cosa che ho scritto è Massaggia spesso la cute Una sera stavo guardando un film e ero talmente rilassata Che mi stavo proprio massaggiando per una mezz'oretta buona La cute in questo modo con movimenti circolari molto lentamente È una cosa che facevo solo sotto la doccia ogni tanto Ma da quando ho iniziato ad andare dai miei parrucchieri E mi hanno consigliato che fa molto bene Però massaggiare comunque la cute è una cosa che spesso si tralascia Non si da tanto peso però fa super bene Quindi ho iniziato a prendere il vizio di stare lì a massaggiarla Soprattutto quando non ho niente da fare Quindi mentre sto guardando magari un film Secondo consiglio Ritorniamo a quello che vi ho detto prima Parliamo di prodotti naturali Perché da quando ho iniziato ad utilizzare solo shampoo e balsamo naturali I miei capelli sono cambiati tantissimo Questo perché non so se lo sapete Ma tanti prodotti sono pieni di siliconi E tanti altri ingredienti che danneggiano il nostro capello Comunque simulano un effetto rimpolpato Idratato Quando in realtà è solo una pellicola finta Ok? Un filtro di Instagram Quindi evitando questi prodotti aggressivi Il capello sicuramente già da lì cambia tantissimo Io mi sono avvicinata a un sacco di brand in questo anno soprattutto Dei prodotti che vi posso straconsigliare Perché li utilizzo oramai da un anno pieno E in alternativa appunto a quelli che utilizzo già di mio Però quelli che ho notato che mi hanno proprio lasciato il capello come piace a me Quindi come questo effetto super pulito Ma come vedete lucido Questi capelli si sono asciugati all'aria Non li ho fonati Sono grezzi come vedete Cioè non sono stati fonati, piastrati Li ho lasciati all'aria Asciugare all'aria E ho usato appunto questi due prodotti qui Shampoo e balsamo del brand Hairburst Che è uno dei brand che più amo Ed ecco ho spiegato lo sfondo lilla Secondo me stava tutto benissimo C'era tutto in linea a pastello Se posso fare una lista dei prodotti preferiti Loro li metto in cima Perché sono quei prodotti facili, veloci E che danno delle prestazioni pazzesche Perché li utilizzo spesso quando So che tipo di capello voglio Non ho troppo sbatti per starci dietro Boom, loro Questi prodotti sono vegani Con ingredienti di derivazione naturale Senza SLS, parabeni e siliconi Quindi potete utilizzarli tutti i giorni E lasciano i capelli profumati di cocco e avocado Il prodotto al loro interno contiene diversi ingredienti speciali Come ad esempio gli amminoacidi Che vi aiuteranno a mantenere i capelli super sani e idratati Il pantenolo che aiuta a ritenere l'idratazione E dona volume alla chioma Ed infine le proteine idrolizzate del grano Che ristruttureranno il vostro capello dall'interno Proprio dal fusto E questo farà sì che il vostro capello Risulterà proprio più sano Perché lo è Infatti a me è cambiata tantissimo la texture Da quando li utilizzo Da quando utilizzo prodotti naturali Questi dovete provarli Perché sono fantastici Tra l'altro non so se vi ricordate questo brand l'anno scorso Ma io avevo iniziato proprio con gli integratori Infatti il terzo consiglio che vi do È di provare degli integratori per i capelli Quelli magari più adatti a voi Io ne ho provate tanti negli anni passati Se vi ricordate provavo sempre un sacco di integratori per capelli Un capello sano Un capello tenuto bene Può crescere E questi vi aiuteranno a farli crescere ancora di più Quindi avete visto anche voi tra l'altro i risultati Vi faccio vedere questa confezione nuova Perché appunto all'interno troviamo queste gommine Da masticare e da prendere giornalmente Queste sono delle caramelle super cute Da masticare per tutti coloro che hanno la paura di ingoiare pastiglie Io ho l'ansia Quindi il fatto che siano caramellose è super apprezzato Come vedete sono vitamine per capelli appunto Sono vegane, cruelty free All'interno contengono biotina, zinco, selenio, vitamina A e vitamina B12 Che aiuteranno la crescita del vostro capello Infatti la biotina è l'ingrediente principale In questa pochettina carina tengo i loro prodotti E qua ci sono altri due prodotti Ve li faccio vedere nuovi perché me li hanno rimandati Che ho adorato anche qua Questo è un elisir per dare volume ai vostri capelli Aiutare anche questo la crescita E questo è un siero per aiutare la crescita delle vostre ciglia e sopracciglia Che io ho fatto un periodo Per cui le mie ciglia erano un po' sfigatelle Ho utilizzato per un po' di tempo lui E mi ha aiutato anche questo tantissimo A farle crescere super lunghe e colte Prima di passare al prossimo consiglio Però vi lascio il codice sconto Che è Gloria E vi darà il diritto al 25% fino a fine gennaio E acquistando un bundle di qualsiasi tipo che trovate sul sito Che comprende ad esempio shampoo, balsamo Quindi conditioner e vitamine Riceverete la pochette Anche voi questa qua è troppo bella Ed è automatica Quindi una volta che fate l'acquisto utilizzando il mio codice Ve la mettono già loro nel carrello gratis Visto che mi sono già persa con il conteggio Vi lascerò in alto il numero dei consigli E proseguo a darvi il prossimo Evitate di stressare troppo i capelli Ciò vuol dire evitate di fare troppo spesso acconciature Di tenerli sempre con la coda O di tenere sempre magari la crocchietta O di fare sempre questa cosa di tirarli Di stressarli semplicemente anche con la spazzola e il phon Con le piastre, con i ferri Le code trattengono E a furia di tirare rischiate anche di perdere i capelli Perché li andate a stressare a tal punto che i capelli poi non Già borelli sono morti Se poi li tirate pure Non è che andiamo a facilitarne la crescita Non è che se vi fate i tiranti naturali Poi i capelli rimarranno lì a vita Prima o poi li perderete Spero per voi di no Se volete i capelli perfetti Ovvio poi in questa vita sta a voi decidere no? E voi mi direte sì Gloria ma io come faccio a non utilizzare il phon Che mi viene la cervicale O ho i capelli ricci o i capelli crespi Ovviamente questo video è rivolto a tutte le persone che Avevano i capelli Hanno scusate i capelli come li avevo io Chi mi segue sa Cioè cercate di mettere delle foto in questo video Per farvi capire Ma io c'è stato un periodo della mia vita appunto Due anni fa Prima di decidere di usare cose sane Per i miei capelli Avevo i capelli corti fino a qua Cioè qua dietro erano tutti tutti spezzati da decolorazioni, tinte, prodotti sbagliati Parrucchieri sbagliati Ho cambiato proprio routine Infatti quando li voglio mossi Se ho tempo Potete fare questa cosa semplicissima Che è una cosa che mi avete richiesto di fare in un video Perché non volete perdervela Quindi state molto attenti Prendete una cosa del genere Questa è una fascia per la skin care Ma voi potete anche utilizzare il laccio della Cappatoio Che è fatto di asciugamano Poi prendete il prodotto Stavo dicendo Prendete l'imputato E lo mettete in testa Con una molletta fermate l'altra parte Per evitare di tirarla E dividete i capelli in due sezioni Quindi li portate in avanti Fatelo molto alla buona Non prendetevi dall'ansia È molto semplice Ci sono riuscita io Ce la fate anche voi Prendo appunto la sezione iniziale E la inizio a girare intorno Al laccio Questa ciocca non la vado a perdere Vado a prendere l'altra sezione Dai capelli dietro Dalla metà E li unisco Ok? Li unisco all'altra ciocca più grande E continuo a fare questa cosa Girarla intorno Continuo così Stringo Perché altrimenti il boccolo verrà troppo morbido Se volete provare questo metodo Per fare i capelli mossi Vi consiglio di non farlo a capelli asciutti O comunque a capelli troppo troppo asciutti Tipo il giorno dopo che li avete lavati Non verranno Cioè verranno ma poi scenderanno subito Vi consiglio a capelli umidi O comunque appena lavati Anche così asciutti Prima di andare a letto L'importante è che rimangano qualche ora Una volta avvolta Tutta la ciocca Io piego questo Ma voi potete utilizzare un elastico Io ho trovato questo Che è spettacolare Perché è il fil di ferro all'interno E fa già da lui Fate la stessa cosa dall'altra parte E poi chiudeteli dietro Con la stessa molletta Che avete utilizzato qua Una cosa che vi consiglio È di utilizzare dei nutrienti Per i vostri capelli Che possono essere degli oli Anche questi super consigliati Quelli naturali O dei prodotti che appunto Vado a dare idratazione Se durante la notte meglio Perché rimarranno come una sorta Di impacco durante la notte E questo lo faccio anche Nei giorni in cui non lavo i capelli Soprattutto perché le lunghezze Le punte tendono a seccarsi Nei giorni in cui non li lavo E vado ad equilibrare Un po' le cose In questo modo Facendo tutto ciò Vi eviterete le doppie punte Che sono il vostro peggior nemico Se volete vedere crescere i capelli Quando c'è un punto di ruttura Del capello Se voi lo stressate sempre di più Tenderà a biforcarsi O a fare anche Super ramificazioni Che manco i drasil Voi Vi viene automatico Lo so che lo fate Non dovete farlo Lo so che vi viene automatico Fare questo Ma questa cosa L'ho vista fare le mie amiche Ogni volta mi viene Come quando qualcuno Fa così sopra la lavagna No Non distruggete il vostro capello Piuttosto tagliatelo Fino alla parte sopra Dove non si spezza più Quindi evitate di aprirli Ma soprattutto Tagliateli spesso Questo è un altro consiglio Vi do perché tagliandoli spesso I vostri capelli Cresceranno più sani Altro consiglio Quando potete Cercate di fare Almeno una o due volte La settimana Una maschera Anche qua vi consiglio Quelle naturali E se volete Farle anche Da voi Con l'aloe vera Con l'uovo Con l'olio Ci sono un sacco di ricette online Penso di averle fatte Anche io in passato Ci sono dei video forse Boh non lo so Maschera per capelli Sì c'è sicuro Ce ne sono un po' Mi sa Comunque potete cercarli Anche sul mio canale Questo consiglio è un po' Stupido Però Tanti lo sottovalutano Evitate di farvi troppe tinte O se dovete farle Anche qua Cercate di fare Tinte naturali O con ingredienti Di derivazione naturale Ci sono un sacco di brand Sul mercato Che adesso si sono Avvicinati a questo Pensiero di Utilizzo di prodotti Di origine naturale Sempre un casino dirlo Per me Se voi andate Ad utilizzare la tinta Soprattutto Solo sulla cute E fate magari Bagni di colori Sulle lunghezze Evitando di fare la tinta Sempre su tutti i capelli Questo potrebbe migliorare La vostra situazione Quello che mangiamo Si riflette sul capello Cercate anche qua Di mangiare sano Sia per il vostro bene Che per il bene Dei vostri capelli E cercate magari Ingredienti Che fanno bene al capello Io ad esempio Ho scoperto che La frutta secca Fa bene al capello E io ne mangio A palate Tutto l'anno Quindi L'uovo Mi faccio l'uovo ogni mattina Non so se centri qualcosa Con la crescita dei capelli Ma i miei capelli O la lucentezza Perché sono veramente Naturalmente lucidi Boh magari l'uovo ha aiutato La crescita Non lo so Altro consiglio Sciacquate bene i capelli Prima di asciugarli Questo è un errore comune Io sento che vado fino al collo Cioè sento proprio Di sciacquare in modo Ossessivo Perché mi hanno insegnato così Quando ho lavorato Come parrucchiera Poi mia mamma è stata Parrucchiera per anni Lo sapete E ho tipo Il mio ex datore di lavoro Che mi urla Sciacqua bene Quella testa Sciacqua bene Quella testa Prima avevo la fissa Di lasciare un po' Il balsamo Perché dicevo Beh dai magari Mi lasciano più profumo Magari mi Idratano ancora di più il capello No Ve lo sporcano Appunto Dovete lasciarli liberi I privi di ogni prodotto Dovete solo pulirli Quindi lavateli E sciacquateli benissimo Perché ogni residuo Può compromettere La Sara La Sara Può compromettere La mia amica Può compromettere La La sanità Del vostro capello Cosa può compromettere? Un'altra cosa che faccio Quando mi lavo i capelli E di tenere il balsamo Il conditioner Almeno 3 minuti Quindi non è che vado a mettere Il balsamo E poi sciacquo 30 secondi dopo Cerco di tenerlo 3 minuti Per farlo assorbire bene E poi sciacquarlo via Altro consiglio Ultimo getto d'acqua Una volta sciacquati Fatelo freddo Perché questo andrà a chiudere Le squame Le tegole del capello E andrà a creare Una lucidità naturale Quindi andrete proprio A tonificare il capello Ecco Tamponate l'asciugamano Non strofinate Anche qua Un sacco di errori Di gente che prende E fa No Apre sempre le tegole Le squame del capello E non va bene E vi andate a stressare Rischiate di ingarbugliarli Di stressarli Di spezzarli E di tirarli Quindi no Quando devo asciugare i capelli Infatti una volta lavati Utilizzo due asciugamani Uno per tamponare via L'eccesso di acqua Quindi strizzarli Con l'asciugamano Picchiettando In questo modo L'asciugamano Sopra i capelli E l'altro per avvolgerli Una volta Umidi All'interno Di un turbante Che mi permette Di fare altre cose Nel frattempo E lasciare i capelli Un attimo Lì da soli Che fanno conoscenza E si asciugano E si asciugano un pochino Se proprio proprio Volete utilizzare Il phon e la spazzola Cosa che faccio anche io Quando li voglio appunto Asciugare O comunque stirare O rendere meno crespi Cercate di tenere il phon Verticalmente Puntate il phon in questo modo Con il getto d'aria Dall'alto verso il basso Sempre per la questione Del capello Tegole Squame Del capello Cuticole Come volete chiamarle In questo modo Asciugandoli Dall'alto Verso il basso Le andiamo proprio a chiudere Stessa cosa anche con la piastra Un altro errore comune È quello di utilizzare Le piastre In modo ossessivo Così No Bastano due Massimo tre Passate di piastra Basta prendere bene le ciocche Spazzolarle E nel mentre che si spazzolano Voi passate la piastra In modo lento Cercate di tenere la piastra In questo modo Mentre andate giù Non in questo Perché altrimenti Spunteranno i baby capelli Come vedete Come quando si asciugano al naturale O si increspano Spunteranno tutti all'infuori Perché li state acconciando all'infuori Come vi ho detto prima Code Cappellini Acconciature Cose che vanno a trattenere I vostri capelli E a schiacciarli Lo indeboliranno E favorirà anche qua La perdita di capelli Come vi ho detto prima Voi dovete cercare di aiutare La microcircolazione della cute Quindi più stanno liberi Meglio è per loro E questi erano I miei consigli Per avere capelli Più sani E vi giuro Che se applicate questi consigli I vostri capelli Cambieranno da così a così Io a volte mi riguardo E dico Wow Sembrano quasi I miei capelli naturali Cioè prima di Tinte Decolorazioni E croste in testa E capelli spezzati Cioè sembra quasi Di avere i miei capelli Con il mio colore Invece sono capelli tinti Sempre miei Però Sani Sono pazzeschi Lo vedete anche voi L'avete visto anche voi Su Instagram E infatti sono Contentissima Di aver fatto questo video Perché finalmente Anche voi sapete Tutte le cose che faccio Ai miei capelli E tutti i prodotti Che utilizzo Ovviamente anche su Instagram Vi do un sacco di consigli E tanti sconti Quindi nel caso Ci vediamo là Spero che vi sia tornato utile Fatemelo sapere In un commento qua sotto Anzi scrivetemi Quale errore spesso fate E commettete Con i vostri capelli Poverini Ovviamente se questo video Vi è piaciuto Lasciate un bel pollice in su Per supportarmi E noi ci vediamo Al prossimo video Se avete altri consigli Vi aspetto qua sotto Nei commenti Ciao